Quindi cosa facciamo? Guardiamo il computer e ti avvicini al computer, vabbè. Ti avvicini al computer. Vabbè, posso guardarlo anche un po' da lontano. Sì, ma di solito non ho una curiosità. No, no, col cazzo, non è che esplode, tipo Final Destination 1, citazioni, pure meravigliose, ragazzi. Guardi, dai. È un computer, cosa fai, vabbè, ti avvicini? Cosa scrivi? Sono uno schiavo, vaffanculo, sono un mito, donne i miei sei. Che cosa sei? Vaffanculo? Sono un mito, sono il leader dei sensi, sono uno schiavo. Sono il leader dei sensi. Ma io scrivo vaffanculo. Vabbè, fai tu, stai giocando tu, dai. Appunto. Allora, vaffanculo, il computer non vaffanculo. E allora, scelto, sono un mito, se mi risponde non è vero, sei quello che cantano gli 8-8-3, veramente. Toglietegli il gioia, Quatorfa. Viene visualizzato tutto il testo sullo schermo, mi dispiace, questo programma non accetta soggetti sottendesi. Va bene, dai, io sono il leader dei sensi. Risposta errada, cosa sei? Vabbè, devo rispondere, sono uno schiavo. La stanza si dissolve, rivelando il panorama mozzafiato del cosmo. Cosa fai? Cammini sulla luna, indaghi sul pianeta, voli verso la stella viola. Indaghi sul pianeta. Indaghiamo sul pianeta. Il pianeta sembra un mondo deserto con un raggio di 3100 chilometri. Analizzi il pianeta. Te ne vado al pianeta e... Analizzi il pianeta. Hai trovato qualcosa. Lancia una sonda. Te ne vado al pianeta e cammini solo. Hai trovato dell'elemento 1. Perché l'elemento 0... Ah, ragazzi, troppe citazioni, veramente. Te ne vado al pianeta e cammini sulla luna. La luna. È un posto parecchio noioso. Continua a camminare sulla luna. La luna è un posto parecchio noioso. Continua a camminare sulla luna. Niente, è troppo noioso. Salutiamo in 7. Sì, salutiamo in 7. Niente, è un posto parecchio noioso. Niente, allora, voli verso la stella viola. Mentre voli verso la stella, noti che tutte le altre si stanno spegnendo. E ben presto, ti trovi nella vastità dello spazio in completa solitudine a fissare la corona della stella viola. Entri nella stella viola. Il rumore smorzato di un battito di cuore riempie la stanza. Cosa fai? Accaressi il pappagallo? Tocchi il pendolo, mangi il cuore e bevi il vino. Bevi il vino. Tra tutte le cose... Bevi il vino. Che schifo, cioè che ne sai? È tenuto da una schede, lo fa da schifo. E mangi il cuore? No, accaressi il pappagallo. Accaressi un uccello. Accaressiamolo. È un corvo. Ah, allora perché mi hai detto che era un pappagallo. Allora, tocco il pendolo anche se è un po' mi sa che ti tagli. Vabbè, lo tocco dal lato. Il pendolo ti mozza la mano. Per fortuna la simulazione la vuoi far ricrescere. Forse è meglio non rifare. Allora tocchi il pendolo. Però meglio non essersi mozzato il pene. Allora, tocchiamo il pendolo di nuovo. Niente, no, è così. Ah, ok. Cirquito chiuso. Bevi il vino. Beviamo il vino. Mentre ti scoli la bottiglia di vino omicida dannata, ti gira la testa e svieni. Ti svegli. L'acqua tiepida nell'oceano o ti dammisce il viso? Ti siedi e ti trovi su una piccola isola deserta in pieno naufragio, alla deriva, senza nessuno. Fai un'azzattera con cambiani morti e foglie, fai impanate con le nere di cocco, costruisci una capanna con le polme, ti fai due martini con le nere di cocco. Costruisci una capanna con le nere. Ah. Fai insalzatteri, è giusto. Comunque, costruisci una capanna. Meno potremmo voglio rimanere là. Facciamo l'azzattera. Con la tua sorpresa, con la tua sorpresa, l'azzattera di cambiani morti non regge il tuo peso come strada, certo, pesa 100 kg, devi tornare a terra a nuoto. Nuota. Allora, costruisci una capanna. Fai la radio. Come faf? Vabbè, facciamo la radio, va? Costruire la radio è stato più semplice del previsto, pur non avendo alcuna nozione di ingegneria. Le vecchie serie tv ti hanno insegnato come sopravvivere in qualsiasi situazione. Mac Diver. Mac Diver. Purtroppo non hai una presa a cui collegarla. Costruisci una capanna. Non hai chiodi. Allora ti fai due martini. Prepari due bicchieri da cocktail di fortuna e li riempi di latte di cocco. Offre un drink all'architetto, che è il magnaccia di... Minchia. Una bellissima dominatrix emerge dall'unica ombra dell'isola. Cosa dici? Schiava sarà tua mamma. Lasciami andare e bel completito. Io le dico bel completito. No, nel senso che... Lasciami andare, gli dici. Magari dobbiamo prendere in giro il sistema. Le devi dire e lasciami andare. Lascia fare che dobbiamo prendere in giro il sistema. Con le lusinghe non agirei. Vedi? Lasciami andare. I maschi ragionari. Mi ha detto no. Lasciami andare no. Per favore? No. Ti prego, ti prego. No. Stronza. La dominatrix scoppia in lacrime. Perché sei così culidella? Mi ha imprigionato in un inferno virtuale. No, forse devo dirle, mi dispiace. No. Certo, dà la colpa alla vittima. Mi dispiace. Hai visto sempre ragione. Nessuno viene mai a trovarmi. Tu sei la prima persona che viene qui e mi tratti come spazzatura. Ho detto che mi dispiace. Mi dispiace, hai ragione. Si ferma un attimo ad asciugarsi gli occhi o le manette per lì, secondo me finisce che... Ma comunque poi... Voglio salvare Matt Diller, voglio Matt Miller. Ragazzi, se avete meno di 14 anni non guardate questo... Salviamo Matt Miller. Peccato, non avevo ancora finito con questo spia. Ora dovrei affrontare il nemico più temuto da Matt Miller. Con la cazzo di distruggersi. Va bene, diamole ragione. E chi sarebbe? La dominatrix espanisce... Killbane! Questo c'è, Ryan. E di fronte a te appare Killbane. I sensi pensano di potermi sconfiggere di nuovo. Non direi. Stavolta il piccolo Matt dovrà cavarsela da fottuto solo. E voglio la tizia col frustino. Sapevo che non ti importava niente di Miller. Pensi solo a te. Chi sei? Insomma, dove è Matt? Improvvisamente sul ring appare Matt Miller. Scateniamo l'inferno. Killbane scoppia a ridere. Pensi davvero che un inetto come il piccolo Matt possa sconfiggermi? Matt Miller indietreggia. Non so se posso farcela. Sì, vuoi farcela Matt. Matt Miller annuisce con poca convinzione. Ci proverò. Cosa fa Matt? Inganna Killbane con un atteggiamento remissivo. Da un pugno provoca. Ingannalo, inganna. Killbane scoppia a ridere. Pensi davvero che un inetto come il piccolo Matt è sembra la stessa cosa? Allora gli dico si puoi farcela. E poi gli dico provoca. No, scoppia a ridere. Allora si puoi farcela e poi da un pugno. Matt Miller si esalta, si posiziona e colpisce chi il bene ha la mascella. Ai, che cazzo è stato? Salutiamo i vano. Sì. Schiva il contrastatto. E schiviamo. Madonna. Ci hai provato. Matt Miller non riesce a schivare il colpo e Killbane lo colpisce di nuovo con forza. Cosa fa Matt? Indietreggia. Allora si puoi farcela, provoca Bane. No, da un pugno era. Ah giusto, si puoi farcela, da un pugno. Da un altro pugno. Grande. Da un altro pugno. Da un altro pugno. Gran fendente di Matt Miller, il suo terzo colpo di filament e cappocchi, il Bane, che cade rovinosamente perdendo conoscenza. Matt Miller urla, ce l'ho fatta, window. Lo dicevo io. Andiamo a 100 metri. Lo dicevo io. Matt Miller, una nottina che ho spiegato l'allievo, sapevo che con il tuo aiuto ce l'avrei fatta, ora posso uscire da questo gioco primitivo? Lo dicevo io. Andiamoci. Davanti a Matt Miller compare un grosso apparecchio che sembra squillare. Composto a due parti collegate da un cavo, grazie. La cornetta. Al centro un componente rotante, colorato, che ricorda vagamente il tamburo di una mistola. Ok, e i telefoni che si è. Alza la cornetta. Alza la cornetta. Ah certo, la cornetta come in Matrix, giustamente. Molto interessante, cioè nel senso le citazioni per me. Sono però molto sbilanciate verso Matrix. Sì, sì, infatti. Cioè facciamo Matrix, dopodiché. Ma stanno giocando a carte, è normale questa cosa? Eh, quello che dico anch'io. Allora io cosa ero, cioè cos'è successo. Cioè, quello succedeva lì, noi eravamo i videogiocatori, mi stiamo andando in casa. Sono arrivando a ruba mazzetto. Eccolo qui, si diventa come un matto con l'ano e il pene di fuori. Un po' smilso questo. Risico stranissimo. Però sono tutti macchiati. Mille spazio, completato. E benvenuti ad una nuova puntata di Mass Effect, il gameplay di Mass Effect. Ah no, giusto. Senso 4. Facciamo le giuste differenze, le doverose differenze. Siamo di nuovo nella navicella. Ma riproviamoci con il vicepresidente. Sarebbe un po' strano, non credi sì. No, non vedo nulla. L'omofobia, ragazzi. L'omofobia è bruttissima. Io volevo fare il personaggio bisessuale, ricordiamo che qui c'è sempre la bambola gonfiabile, la riproduzione proprio perfetta di Bener Rodriguez. Vabbè, o chiunque voi vogliate. Ma che è proprio Bener Rodriguez? Che ne so, la prima è venuta in mente. Ah no, non c'è qua nessuno. Allora, vediamo qua chi c'è da fottersi. Ma da dove sono andato a passare? Cioè, c'era uno spazio improbo. Hai sfruttato un errore di improbo. No, ho sfruttato. Sotto, sotto. Mi pare che c'era... Ah no. Ah no. Ah no. Qua non c'era la tizia? La tizia è qua che dobbiamo... Sotto, sotto ancora. Oh, se non c'è nessuno qua, la faccio col sacco. Ah no, qui era... O tira pugni. Sì, già, già, non c'era niente. Scusate, ragazzi. Già ho le crisi d'astinenza. Ragazzi, devo fare... Cioè, nel senso, ovviamente sto interpretando i pensieri del presidente degli Stati Uniti qui. Sì. Sei tornato qua? Senti, ma è sicuro che tu non vuoi? Vabbè, niente. Sei tornato qui? Perché dobbiamo andare di qua. Qua c'è il po' così. Allora, avanti. Andiamoci dentro sempre con questo. Ah, la grande. Vediamo avanti qua. Allora, Sid, qui c'è il problema. Ah, ma sembra la stessa cosa. Ah, magari... Non preoccuparti, c'è. Niente, sembra la stessa cosa. Ma giustamente... Vabbè, non rientriamo nei particolari. E quindi abbiamo corteggiato, sì, da dovere. Più che altro lui ci ha corteggiato. Adesso andiamo dalla rossa, maledetta. Partiamo ai D-Max 90. Vediamo, vediamo. Spero non è c'è stessa. È così, io voglio fare. Ah, sembra la stessa. Stavolta gli ho detto, però, andiamo. Guardate il pugno rosso. Forse è una sadica. C'è una... Sì, la scena è la medesima. E anche un po' di monotonia di coppia. Vediamole che dice. Devi aspettare il pugno o no. Eh, già c'è l'abitudine. Parliamoci. Qualcina storia che hai hack, mi ha dato data di sicurezza. Posso usare questa data per inserire un virus, che avrà avuto un'altra porta per tornare alla città. Quindi, vai hack mentre io lavoro sul virus. Puoi sbloccare i negozi, per sbloccare, eccetera, eccetera. Va bene. Quindi, ho completato questo obiettivo, ci ho parlato. Ok, non era difficilissimo. Adesso proseguiamo nella simulazione. Allora. Esci dal barco. L'effettone, ragazzi. Bene. Andiamo... Proseguiamo con la storia. Recupera, l'abbiamo liberato, adesso la dobbiamo... Andai, parla con Kinsey, che ci ho già parlato poco fa, comunque. Ah, dobbiamo tornare, quindi, nel... Scusa, l'ho fatta la missione. No, dovevi prima... Ma che stanno facendo questi? Esci dalla siculazione. Ci devi parlare adesso. Andiamo a parlare con Kinsey? Mi somiglia, ragazzi. E' bello svegliarsi e addormentarsi così, a comando. Non lo so. Sono andato a parlare. Cos'hai fatto? Caricamento in mane. Caricamento, ragazzi. E' veramente un grande problema, è una buona opportunità per lui di creare un carattere. Kinsey, questo non è il momento per un momento insegnante. se non ci aiutiamo Matt, si morirà. Non è troppo buono, però. Fine, prendi questo. Come pure, anche lo stereotipo, lo stereotipo, non è troppo buono, dai. Cioè, io non lo rendo troppo buono, perché faccio... mi faccio usare la telecinetica su praticamente tutti. Sei mech? Sì, sei bellissimo. Grazie. Stavo parlando con il robot. È un'armatura di potenza. Non davvero. Il robot è un'automatologia. Non c'è un'armatura di potenza. 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 Fantastico, fantastico. Devi comandare? E quindi sono qua, sempre dentro la simulazione. Cioè, fuori dalla simulazione. Penso. Penso che ti rimanda lì. No, non ha senso. Sì, infatti non ha senso. Devi attaccare la... Ma sei Iron Man? No, non c'entra niente con Iron Man. È un mech più che altro. Distruggi le casse per riparare. Ah, ok. Ok, dentro queste casse ci sono... Me lo immaginavo, non dovevo distruggerle invece. L'ho distrutto lo stesso come un fottuto ebete. Bene, questo non ci devo neanche passare. Bene, bene. E basta. Spengono il sacco, bene. Sì, ma mi sa che devo volare qui. No, no, stanno parlando per il fatto che erano... Devo volare, devo volare. Stanno parlando, aspettiamo che finiscono di parlare. Saliamo. E' galla. Arisaliamo. Mi sa, arisaliamo ancora. Dai, fottuto, trasforma. Non è una spallata alla porta. Questa non è una spallata. Così, è una spallata. La spallata è proprio qui. Ah, ok. Solo che l'ho usata malissimo. Ma cosa vorrebbero fare questi? Ho un robot tutto mio. Sì, ti sarà contento di questa cosa. Già. Sì, che ci ha devastato due volte. E' devastare. Vuoi che ti devasti? Pure di figli di... Non vuoi proseguire. Ma si può anche sparare volendo. No. Non ha armi, però... Vabbè, è una fortuna di arma già di per sé. Vabbè, comunque l'energia si trova... Ah, ci sono pure i robottoni, quindi la tipo Robocop. Ecco, ovviamente, il live dad. Il solito live dad che si connette. Che cazzo? Fa sapere che stiamo registrando il nostro... Ma per te, cara, RoboKill. Il play. Ah, tu dici i robocop. Qua c'è la porta. Si è spaccato prima che fai inserla spallata, quindi... Vabbè, ci sono le animazioni. Io farei tappa qui. Sì, perché la barra bianca... Ricarica, 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 sì, sì, non l'ho fatta ricaricare tutta. La pagherò, secondo me, questa cosa. Attenzione, attenzione, attenzione. No, no, ci arriviamo, ci arriviamo. Oh, merda. Oh, merda. Citazione di Jay Saranbondon. Stai scherzi con la roba perere, film fantastiche che è di Smith. Ma è spavolata. Ricordiamoci che Matt era nudo in giro per questa... Ecco, se li spaccano prima... Ma quelli stavano facendo i fatti propri, cioè non ti stavano ignorando. Eh, vedi come gli ammazzano. Perché ride quell'icona? E' qua, dov'è? Ah, eccolo. Vieni qua, mazza. Che devi fare? Non ti ammazzo a questi vizi. Fuggi da New York. Andiamo, andiamo. Sì, lui ti seguirà sicuramente. Non era più logico che salisse in qualche modo su di me. Mi aspettavo che salisse. Ma vabbè, non facciamoci domande del caso. Il tipo di armia ha questo mech? Niente. Mi spallate. Non ci basta, scusa. Vorrei averlo io un mech così, per andare ogni giorno alla volta. Altro che fila, altro che traffico. Devasterei tutto. No, non è qua. No, no, no. Difendi, ma... Oddio, oddio, oddio. Non lo farei il mio amico. Bostardi. Bostardi. Non ci sono altri che lo stanno infortunando. Non infortunatelo. Non infortunatelo. Insomma, non potete, ovvero. Poi magari lui sarà nella nave e ci potrai provare anche voi, che so che non vedi l'ora. Quindi non me lo infortunate, per favore. Ma loro non si spostano. Inesorabilmente aspettano il loro corpo, il loro destino. Ah no, non è aggredito. Però ha messo in una posizione un pochettino. Ah no, sta facendo qualcos'altro. Pensavo aspettasse ormai l'inesorabile... L'inesorabile tocco della... Insomma, volevo fare una battuta ambigua. Insomma, sì. Hanno capito benissimo. Un peninano, ecco. Troppo spiore. Questa non ha molto. Libera l'area. Ce n'è uno. Ma l'unico stronzo che ancora è vivo. Ma dov'è? Quando prendo questo... Ma cosa fa? Poverino, mi fa pena. Ma levati. Vieni qui per il tocco finale. E veniamo qui. Con l'avete del tocco. Da dove me la sta infilando quest'arma? Allora, spara con i cannoni RT. Beh, come ha fatto a farlo? E' lanciati con RB. Ah. Ok, RT e RB praticamente. Sì. Vai verso dove ci sono i nemici che è la zona giusta. Scusate, ho bisogno di testare le mie armi. Per favore, grazie. Grazie ragazzi, grazie. C'è molto gentile, aspettate. Ecco, poi. Ecco, ce ne è anche per voi. Tu non devi disturbare. Cioè, quello spara con la pistoletta intanto. E fa più danni di me. Questa è la cosa strana. A te ti riservo questa. Molto estantanea. Ok. Ci sono i robokiller. Guarda avanti i robokiller. Merda. Guarda, questa è la cosa che sto parlando. Vedo tanta luce che è lampeggiante. E qua sulla destra ti disturbano come insettini. Sì, in realtà è insettini. Questa è una specie di maledetto. Però rispetto alla tua armatura. Robokiller. E' quello. E' calma. Fuggi da prigione. Sì. Preferisco quando voli da umano. Esistamente più immediato. 440. 440. 240 su 243. Cosa assume sempre posizioni abbastanza... Ambigue. Ambigue, però non è proprio... Facilmente interpretabile. A desiderio di... Rintanarsi. Di accovacciarsi. Scusi, ti pesto un attimo. Tanto lo so che non c'è un fuoco amico. Non devo devastare qua. Sti amici nostri. Robokiller maledetto. Stavo non capendo da dietro. E' sempre da dietro. E' sempre un po' di salute qua tutta la vita. E' da un anno. Dove stai andando? Chi sta cercando? Sono lì. Ricordiamo che questo Matt è uno degli hacker che... Evidentemente ha hackerato il GTA V. Sì. Rockstar. E' uno rimasto vivo. Non l'ho lasciato. Tra l'altro è in posizione. Ah, è il... Il Robokiller. Ma se lo schiaccio? Toh. No. Devi praticamente ucciderli tutti. Vai! Vai! Non ci credo che nemmeno presa. No, perché... Neanche... Può essere. Che io non ne abbia preso uno. Tutto questo... Stanno arrivando da là. Valle prendere direttamente frontalmente. Qua ce n'è uno, qua ce n'è uno. Alla sinistra. Che... Scusa, a chi c'è il che? A chi c'è il che è? Una mossa molto stealth. Si stava infiltrando. Sì, 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 sì. Missili, missili per favore. Missili, grande. Tu vai di... Attacco pesante. Sì, sì. Potremmo chiedere. Spacca, spacca, prendi la salute. Se salute... Non piglio, in realtà. Ce n'è uno? Ma guarda se si vanno. Si è pure ingastrato. In un bug del cazzo. Mi pare che siano finiti. Adesso devo tornare. T'ho brutto. Ah, 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 ah. Cosa? Mi ha distrutto? Sì, sì, ce ne sono altri. Ah, l'ho preso per sbaglio. No, quello non è. Facile confondersi. Bravissimo. Ma quello non è. Ah, sì. E qua dove? Te. Repate, cani rognosi. Prendi questo. Ma guarda quanti. Ah, non si finisce più. Eh. Allora siete dei veri guaratori, di stronz. Questi vogliono morire, sono tutti veramente? Un cazzo. Sono un pellegrinaggio verso la morte. Sì. Più o meno credo che li sto... No, mi si è distrutto. No, non me lo dire, non vuoi più sparare. Sì, mi sono distrutto, vai alla nave. Vai alla nave, vai alla nave, vai alla nave. Anzi, qui stanno devastando. Ecco, non me l'ho preso. Ma se la cava il tizio, Matt. No, ma probabilmente è salito. Bellissima questa cosa. Si è buttato a pesce. Senza alcuna protezione. Non è credibile questa cosa. Mai farlo senza protezione. Bellissima, bellissima. Oddio, non so. Un po' bella, un po' no. Missili. Non ce n'è, devi sparare qua. Non puoi spiegare, non è bellissima. Cioè, il suo gioco cambia continuamente. Diventa sempre un gioco diverso. Fra poco diventerà FIFA. Cioè, poi dicono che è ripetitivo. Io nel fratello mi sono andato a cazzo. Quello si è distrutto da solo. Battendo. Difendi la nave perché già ha avuto i suoi begli danni. Questi... Oh, è un nemico questo. Penso proprio che sì. Non capisco. Non c'è l'energia. Tu spara quelli di segnali. Non c'è l'energia. Tu spara quelli di segnali. Non c'è l'energia. Vu? Vabbè. Ho la sensazione che questo gioco va davanti da solo. Anche se non puoi giocare. Sì, sì. 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 E che poi a un certo punto innalza degli scudi magnetichi. No, tu devi sperare ai tizietti. Ai tizietti, ragazzi. Ai tizietti. Trovo un posto sicuro. Ok. Penso che abbiamo perduto. Sto in fronte di un passaggio. Ho bisogno di un minuto per aprire la porta. Merda. Sto in fronte. No, non è finita. No, non è finita. No, non è finita. No, non è finita. In realtà, attenzione. Eravamo concentrati. No. Era più da gioco standard. Gioco standard? Ti chiamo più da shoot'em up classico. Vuole un 5. In faccia. Trappando in un aeroplane. Trappando in un aeroplane. Johnny Gatt. Matt è tornato. Completa. Provaci subito con Matt. Sì, proviamoci subito con Matt. Genaro, 3.000 soldi. 3.000... Esperienza e via dicendo. Non dovevo vederlo nudo. Ok, ora dobbiamo scoprire dove si trova lui. Cioè, praticamente è la fottuta Norman di questa. Sì. C'è sempre la bambolazza gonfiabile, quindi non penso che... No, 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 no. Trovare dove si trova lui... Dove si trova lui... Non è facile. È un fottuto hacker, quindi sarà infatti... Parla con Matt Miller. Se non c'è troppo problemi... Ho bisogno di familiarizzare me stesso con come funziona la simulazione. Penso che se guardo i cambiamenti per il codice... Quando facciano alcune tasche per me... Potrei avere un'attività più forte sull'attività del programma XIM. Cosa vorrei? Venga. Corteggio. Proviamoci. No, no, ragazzi, no. Io scherzavo, non volevo. No. Cosa vorrei pensare? Possiamo tutti essere morti pronto, quindi... Per esempio... Non devi morire una virgine. Posso chiamarmi Nightblade? Sei f***o vero? Non è vero? È vero? Lo devi chiamare in un certo modo... O niente. Nulla... Assolutamente nulla di male, per carità. Però... Non pensavo che... Però c'è stato più romanticissimo che con Kinji. Giusto? Sì, comunque immaginavo che Matt... fosse... Di preferenze... Cioè, avesse questo tipo di preferenze. Cioè, che fosse che, insomma. Ok, e continuiamo. Nulla di male, assolutamente. E... Con le nostre bisogni. Torniamo nella simulazione. Che è qua. E siamo ritornati nella simulazione. e Kinji stava rilevando una... Un'anomalia... Un'anomalia. È sempre... E Zinnia che è incazzato per la storia di Matt. Sì, ma poi io... Questo è subito, è il tempo di tornare. Sì, ma poi io ho i superpoteri, tutti i cazzi di Matt. Sì, ma poi io ho i superpoteri, tutti i cazzi di Matt. Non posso prenderlo con la telecesi. No, no, no. Lo diamo Washes Dread, che però... Guarda come ora, vedi, siamo in un momento critico. Come si fa a cambiare i poteri, abbiamo detto? Questo è il ghiaccio e questo è il fuoco, ok. Perfetto. Tu dici che sia... Efficace? Ma... Penso di sì. Oh, come scassa il cazzo con queste... Con questi terremoti del cazzo. Se no, puoi usare la telecina di prendere le macchine. Come facevamo nella simulazione... Nella... Nell'addestramento. Senti... Allora... Già... Non gli ho levato niente, io lo si guardo direi. Cristo! Vendi delle macchine, scagliale contro. Vieni qua. Lo portiamo... Levatevi dal bene. Telecinesi quale è? Alti tasti. Ecco, bravissimo. No! Guarda, è una macchina utilizzabile, grazie. E com'è che non hanno macchina? Tranquillo, tranquillo. Tutto a posto? No, le persone! Vabbè, non sai, fanno il loro... Guarda come l'ha spinto! Ma... No! Guarda quel bel danno! Ho fatto tipo una scacciata alla Mila e Shiro. Qui succedono cose strane a livello di fisica. Dov'è? Dai! Succede di tutto, ragazzi, in questo gioco. Questo mostro è veramente... Uno dei più antipatici che abbia mai visto. Perché salta in continuazione. Io nei giochi odio quando saltano continuamente. Sì, ma non è soltanto il fatto di saltare. E anche il fatto che comunque, oltre a saltare, scassa le palle. Ecco. Scassa le palle. Perché? Perché il suo salto crea un terremoto che mi fa cadere. Vaffanculo! Sì, ma... Non so se ho concluso più anche... La signora! Ti ha levato un sacco di energia alla signora. Più l'altro l'ho levato energia alla signora che stia indiscutito. Cioè, la signora era già morta quando... Viene qua! Questa macchina mi serve. Che lui fa lo stesso capitolo dell'intelligenza. Scusi, suonate la polizia, mi serve la sua macchina. Christopo! Salta come un idiota. Ma non la signorina qua. Ma non la signorina qua. Previlige le persone. Non è questo, è che magari non... Uccidi qualche persona e prenditi soldi. Prenditi l'energia. Vai, vai, vai! Aii! Cioè, mi sono andato a cercare la macchina! No, dai! Penso che la puoi afferrare al volo, quelle che ti lancia lui. Sto giocando però alla cazzo, no, attenzione. Vabbè, gli occupare tanto il gioco. Scuseranno i nemici a casa. Guarda che lo stai devastando! RT, RT! Dai che... Fottiti, sì! Te l'abbiamo fatta ragazzi. Stera fottiti di cك, stronzo! Fuori voi che impara qui nostra... pedata sbloccata ora devo fare il tutorial facciamo questo tutorial della pedata cioè non finiscono mai i tutorial dai una pedata super pedata ah ecco è quello che dicevo che mi scassava la minchia prima di quel mostro cioè che lui praticamente dando le pedate dando diciamo per scuotere il terreno plappete e spawn ottimo mi piace è fottere questo è ottimo per togliersi da vicino come vorrei che ecco intanto lui prende al fuoco come vorrei che ci fosse anche nella realtà una cosa del genere ah questi sono dei cluster nascosti si adesso ci chiamo a darmi pari colpisce e poi spara non era il momento giusto questa volta salto io ecco te stronzo forse deve essere più vicino si suppongo di si nooo lui salta sempre nel momento più conveniente per lui ovviamente ti sento la testa di qua vabbè penso che intanto gli puoi sparare e togliertelo di mezzo tanto il tutorial è già bello che fa ma l'arma dove l'hai buttata? ce l'ho ce l'ho dove l'ho buttata? ce l'ho qua ah ok siccome scompare eccola la no no voglio stare ancora qua a dare pedate tipo lottatori di sumo pedata al guardiano completata abbiamo completato anche questo tutorial ci arricchiamo di poteri magici maghi esatto molto maghi poteri poteri e per questa puntata è tutto alla prossima amici della notte non la prossima puntata sei confuso buon pomeriggio e se non dovessimo vederci buon pomeriggio no buongiorno buon pomeriggio buonasera buonanotte vabbè si queste altre citazioni che vedrete mai ma si dietro manciò alla prossima alla prossima